Lo avevano annunciato appenne in occasione della tragica ricorrenza della tragedia di Rigopiano in cui persero la vita nel resort inghiottito dalla valanga 29 persone, 29 angeli a cui sarà dedicato il Giardino della Memoria, realizzato anche grazie alla generosità degli attori ed ai tecnici che hanno offerto a titolo totalmente gratuito lo spettacolo per un pugno di risate con Pino Insegno e Federico Perrotta. Martedì prossimo 9 luglio alle ore 21 al Teatro d'Annunzio di Pescara, serata di beneficenti dedicata alle 29 vittime di Rigopiano con Pino Insegno e Federico Perrotta. Dopo tanto dolore è stato detto un piccolo momento di spensieratezza per favorire la raccolta fondi per il Giardino della Memoria. Tutto a disposizione di una raccolta fondi che servirà per costruire e gettare le basi del Giardino della Memoria e per regalare un cane al soccorso alpino per le ricerche molecolari. Credo che il nostro intento, voi mi conoscete bene Fabio tu mi conosci molto bene, il nostro intento di vita, se abbiamo una capacità, se c'è un talento, se c'è la possibilità di raccontare qualcosa e di fare del nostro mestiere un motivo di orgoglio e soprattutto di restituzione nei confronti delle persone che hanno bisogno e che non sono così fortunate come noi, beh io mi metto in prima fila e come promesso nel giorno della commemorazione, il 18 gennaio di quest'anno dal dottor Insegno e dal sottoscritto, eccoci qua, una data della nostra tournée, dello spettacolo sarà totalmente dedicata al Comitato Vittime per questa raccolta. Cercare di ricominciare a sorridere non è assolutamente mancanza di rispetto per chi abbiamo perso, è stato detto, anzi è per i nostri angeli, un segnale di ripresa della vita che a loro è stata tolta e a molti altri stravolta. Sì sì, loro sono due anni che ci sono vicino, sia Federico come Abruzzese, Punto Doc e Pino Insegno che è sempre con noi e quindi noi ci teniamo in qualità di comitato a ringraziarli per quello che comunque stanno facendo e sono sempre presenti nelle manifestazioni, nelle ricorrenze, quindi negli anniversari e anche in quest'ultima occasione che c'è. Sì, questo è un progetto che stiamo portando avanti da ormai un anno e mezzo, grazie anche agli amici di Orosei che ci hanno donato la Madonna con i 30 cubi, perché uno è dedicato anche al cane che non ce l'ha fatta. Una cosa che stiamo portando avanti è che grazie anche all'aiuto di Federico e Pino daremo un bel contributo per realizzare quello che per noi è l'ultima cosa che ci tiene un po' su andando in quelle zone.